Dio vivente in loro. Centro spirituale Frattocchie, a cura di Vubi, Guida. Tutta la vita dell'uomo è basata sulla spiritualità, in quanto tutti gli uomini fanno parte del Dio vivente in loro. Non può esistere la vita materiale se non è basata sullo spirito. Bisogna diffidare di colui che non asserisce questo. È la mente, fantasma relativo alla materia, che ci fa pensare il contrario, ma la vita dell'uomo, del proprio corpo, macchina corporea, non è che un deposito momentaneo dell'anima-spirito. La materia è karmica ed è nulla, è solo necessaria per far soggiornare nel tempo l'anima-spirito. Il corpo fisico, con il suo complesso funzionamento, è un vestito, è un tramite per condurre la vita nel nostro pianeta Terra al fine di conseguire esperienze materiali su di essa. Nel cervello, nella camera oscura, c'è la presenza di Dio in noi e quindi occorre dedicarsi ad ottenere il suo amorevole contatto con il rimettere tutte le nostre azioni al potente abbraccio del Padre nostro. Il pericolo maggiore è quello di fermare lo spirito nella involuzione, se non si procede gradualmente ad effettuare tale contatto. L'involuzione è prodotta dall'effetto che si stabilisce nel sonno dell'anima.